E' un po' in ritardo, quindi baldanzosamente verrà qui sul palco, allora chi deve venire? Ah certo, Carlo Lacarazzone, dove sta? Eccola, bene, benissimo, Carlo Lacarazzone ci spiegherà che cos'è quindi la transizione organizzativa, insieme sul palco vengono anche Corrado Passera e Fabio Cecchinato, il professor Cecchinato dove sta? Non c'è, eccolo, benissimo, che intanto si accomodano qui sul palco, benvenuti, buongiorno, possono accomodarsi qui sul palco. Nel frattempo, ecco, Carola ci spiegherà l'ultima parte di questa nostra mattinata. Oddio, io non spiego niente, tra l'altro a differenza di Walter Ganapini e di Tommaso Vitale, io non sono un'accademica, sono una semplice practitioner, quindi davvero ho un angolo di visuale anche abbastanza particolare di parte che riguarda praticamente essenzialmente le organizzazioni del terzo settore, quindi, e sono soltanto alcune suggestioni davvero. Guardando le organizzazioni del terzo settore oggi nel nostro paese vediamo veramente alcuni esempi pazzeschi di innovatori, di precursori straordinari di generatività sociale, li abbiamo visti raccontati da Gaetano Giunta, da Michele Fasinetti, ma se noi guardiamo alla maggioranza delle organizzazioni del terzo settore oggi sembra ancora bloccata e sclerotizzata su modelli organizzativi che possono risultare veramente obsoleti e non adeguati, non generativi, modelli che non consentono di sviluppare la generatività, il potenziale di generatività sociale. Una piccola promessa, la generatività sociale per me non è un qualcosa da geni o da eroi o da fuoriclasse, ma davvero può diventare un cambio di paradigma che ognuno di noi può attivare e di cui ognuno di noi può essere veramente partecipe. Per un cambio di paradigma ovviamente è necessario tutta una parte proprio di cambiamento del sistema della conoscenza e riuscire a capire come veramente si può educare e formare in un modo diverso per arrivare poi a trasporre in logica organizzativa quello che può essere la generatività sociale. Quindi lavorare sulla formazione, sulle capacità e sulle competenze di generatività è sicuramente una priorità. Come ci si educa all'intraprendenza? Come ci si educa alla creatività? Come si educa a nuovi modelli di leadership? A saper vedere quelle opportunità anziché i problemi? A saper vedere, come diceva Fasinetti, anziché i dipendenti delle risorse? Quindi a quel coraggio, a quella capacità di assumersi. Ci sono alcune ricerche interessanti per esempio che dicono che è molto importante lavorare sui bambini e sui ragazzi da 0 a 10 anni sul concetto di empatia e che quella è la base per poi riuscire ad arrivare a una democratizzazione del concetto di change maker. È anche vero che il nostro paese è uno degli ultimi al mondo proprio per numero di imprese che si creano ma anche la cultura proprio dell'assunzione del rischio quindi dello sbagliare e del rialzarsi non è un qualche cosa che ci appartiene a parte ovviamente ha delle eccellenze molto conosciute e chiare ma proprio per riuscire a farne un mainstream, per riuscire a farne un qualche cosa che ci riguarda tutti sicuramente non possiamo fare molto molto di più. Sulle organizzazioni abbiamo avuto un trapianto praticamente di alcuni modelli ereditati da altrove, in particolare dal profit che sulle organizzazioni del terzo settore hanno avuto secondo me un effetto dell'eterio in termini di generatività sociale. Due in particolare vorrei soffermarmi quindi proprio come provocazioni che vorrei lanciare. uno sul criterio dell'efficienza e quindi dei costi di struttura come unico criterio per valutare la bontà di un'organizzazione. Questo è proprio un qualche cosa che è stato traslato in modo errato perché tra l'altro nel profit in realtà le organizzazioni che investono sulle persone, sulle capacità, sui sistemi gestionali e tecnologici e sulla sostenibilità, lo sviluppo finanziario eccetera eccetera vengono premiate. Ma abbiamo questa sorta di mitizzazione del costo zero degli enti del terzo settore, dell'organizzazione del terzo settore che nel nostro paese affonda le radici in diverse culture, sicuramente la cultura del volontariato cattolico ma anche l'inconscio di un paese dove veramente per centinaia di anni i servizi sociali sono stati svolti gratuitamente da donne, suore e laiche. anche così dichiarazione di facciata a altre ragioni, quindi sempre la paura che possono poi esserci dei meccanismi distorti e patologici ma anche l'assumersi proprio responsabilità. Quindi in realtà quest'unico criterio dei costi di struttura per valutare l'efficacia, non lo voglio dire perché è un mero criterio di efficienza, delle organizzazioni ha avuto veramente delle conseguenze deleterie sulle organizzazioni oggi e non consente di sviluppare proprio la generatività sociale, quindi è un qualche cosa su cui dobbiamo veramente riflettere e pensare di cambiare per liberare le organizzazioni del terzo settore da questo ciclo della fame in cui si ritrovano. Il secondo ed ultimo elemento che vorrei portare alla vostra attenzione sulle organizzazioni del terzo settore oggi che secondo me veramente sclerotizza e limita la possibilità di generatività sociale diffusa è quello del lavorare soltanto per cicli di progetto, è quello di lavorare proprio di avere il progetto come un feticcio, di avere il progetto come unico modo di lavorare in risposta, la maggior parte delle volte, dei bandi, ma proprio in una spirale in cui praticamente si scrivono i progetti, si rendicontano i progetti, spesso all'inseguimento delle priorità dei bandi, ma come unica modalità di lavoro, quindi progetti nuovi ovviamente sono degli strumenti più che dignitosi per esplorare nuovi campi, ma quando diventa l'unica modalità di lavoro di un'organizzazione, io credo che possa veramente portare a una deriva in termini di progettifici, a un'incapacità di catturare quella fluidità, quella capacità di catturare opportunità e quella complessità di cui per esempio Gaetano Giunta diceva prima e quindi di innescare veramente generatività sociale sapendo vedere e cogliere delle opportunità e delle risorse e non soltanto applicare della piccola realizzazione di attività per raggiungere degli output. Se osservo l'effetto di lavorare per progetti sulle organizzazioni del terzo settore nel nostro paese, quelle brave, quelle che riescono ad ottenere tanti finanziamenti su progetti, vediamo proprio dei cerchi chiusi all'interno dell'organizzazione per ciascun progetto, che si affastellano in un modo proprio creando quasi dei silos, per cui ogni volta si rinventa una squadra, ogni volta si devono trovare dei consulenti, delle persone da rimettere nel timbri progetto e veramente non si riesce a lasciare capacità proprio di cuore organizzative all'interno dell'organizzazione del terzo settore. Quindi questi due meccanismi insieme, il fatto di lavorare solo e esclusivamente per progetti e quindi quasi un po' come Criceti, ogni volta rientrare in una cosa chiusa, all'estremo ovviamente, e il fatto che proprio per cultura radicata e diffusa nel nostro paese le organizzazioni del terzo settore debbano costare poco o niente, sono due dei meccanismi distorti che secondo me non consentono alle organizzazioni del terzo settore oggi di essere veramente generative in tutta la loro potenzialità, proprio nella potenzialità che possono riuscire a attivare. Se guardiamo all'arco generativo, quindi mettere al mondo, prendersi cura e poi la frase proprio del lasciare andare, la fase transitiva, ci sono tanti altri elementi che influenzano ovviamente l'organizzazione, la governance è una questione anche dell'organizzazione, quindi se vogliamo essere veramente generativi in modo sociale, le nostre governance dell'organizzazione del terzo settore sono assolutamente troppo sclerotizzate, con pochissima partecipazione di giovani, con pochissima partecipazione intergenerazionale, con pochissima partecipazione di quelli che noi chiamiamo beneficiari. Quando vedremo nel bordo delle fondazioni qualcuno che veramente ha vissuto delle esperienze di vita inerenti alle problematiche di cui si affrontano con le fondazioni, forse quello avrà un effetto enorme anche sull'organizzazione. Chiudo. Io penso che veramente un ripensamento del paradigma, se vogliamo riuscire a avere organizzazioni generative, di generatività sociale diffuse e quindi non soltanto l'eccezione straordinarie che puntellano qui e là il nostro territorio da Massina alla Val di Non, dobbiamo veramente lavorare sui processi, non soltanto su programmi o ancora peggio, su progetti.